Zona bianca per 12 milioni di italiani, da oggi meno restrizioni in sette regioni, Liguria, Veneto, Umbria e Abruzzo, si aggiungono a Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Molise, in bianco già da inizio giugno. Restano obbligatori distanziamento e mascherine, vietati quindi assembramenti e feste private, in fascia bianca consentiti matrimoni e banchetti con il Green Pass. Aprono le piscine al chiuso, i parchi a tema, le sale giochi, si potrà stare in sei al tavolo all'interno dei ristoranti, tavolate libere all'aperto. Ci aspettiamo sicuramente, prima di tutto, buon senso, sia da parte nostra che lavoriamo, sia da parte dei clienti e poi sicuramente un incremento del lavoro. Non abbiamo più magari il fatto di dover correre, guardare l'orario, rimettere, chiudere i tavoli, eccetera. Per le regioni in giallo, da stasera il coprifuoco scatta a mezzanotte. Questa misura sarà eliminata in tutta Italia dal 21 giugno. Domani un incontro al Ministero della Salute per discutere della ripartenza delle discoteche. Una buona speranza e di un pochino di ripresa graduale a piccoli passi. Riparte anche il turismo. Gli italiani che hanno già organizzato una vacanza sono aumentati del 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Una meta che mi mancava a parte dell'Umbria. In arrivo le prenotazioni degli stranieri. Le ricerche su internet per una vacanza in Italia in agosto sono cresciute del 58%. L'80% degli italiani sarà vaccinato entro settembre.